ben ritrovato con la sfida rieccoci dopo un mese a vedere la strategia data nel mese di maggio così vedremo un po come si è comportata come si è evoluta quali risultati ha prodotto e successivamente poi avete la possibilità di approfondire tutto quello che facciamo non solo nella parte del commodity spread ma un po diciamo a 360 gradi con tutte le nostre attività di trading andiamo subito più nel dettaglio e ripartiamo appunto dalla strategia di maggio sul Brent il Brent è il petrolio diciamo con più connotazione se così si può dire europea cioè quello del modern nord mentre il VTI è il petrolio quello americano detto questo avevamo una strategia di questo tipo andiamo a vedere un poco più nel dettaglio avevamo la linea nera che è sempre l'andamento del nostro spread quindi la differenza tra la scadenza di gennaio del 2020 e febbraio sempre del 2020 come qui indicato la linea rossa è una media stagionale quindi una media degli ultimi 5 anni quindi ci fa vedere come è stato l'andamento di questo spread negli ultimi 5 anni mentre la linea azzura la linea blu è l'andamento degli ultimi 15 anni chiaramente quella 5 anni assume diciamo una rilevanza per certi versi maggiore in quanto abbiamo assolutamente anni più vicini a noi più controllati viceversa quella 15 anni c'è un andamento una media sicuramente più distesa detto questo andiamo a vedere anche gli altri parametri che erano stati dati innanzitutto le due scadenze le commissioni che sono sempre molto contenute soprattutto rispetto agli obiettivi di rendimento e di profitto che abbiamo e anche il margine il capitale che serviva per mettere in campo questa operazione molto basso di 155 dollari nonostante un capitale di partenza basso l'obiettivo era piuttosto generoso magari 140 dollari non sono tutti i soldi di questa vita ma sicuramente paragonato all'investimento iniziale è quasi il cento per cento dell'operazione quindi del del capitale investito andiamo ora a capire come si è mosso lo spread in questo mese eccolo qua il punto di ingresso era appunto su queste date come in riferimento all'immagine precedente eravamo intorno al 10 di maggio all'incirca dopo un ingresso di questo tipo l'operazione o meglio lo spread non ha subito avviato una stagionalità ribassista ma anche in linea un po in effetti con la media cinque anni è ripartito un poco al rialzo producendo una drawdown quindi una perdita momentanea di 70 dollari quindi sempre qualcosa di abbastanza contenuto successivamente come possiamo vedere l'andamento è stato perfettamente rispettato e la cosa interessante è che questo movimento non ha prodotto 140 dollari ma bensì 240 in un certo momento anche qualcosina in più ma rispetto al prezzo attuale siamo su una 240 dollari di movimento dai massimi rispetto al nostro livello di ingresso siamo comunque ad un livello diciamo superiore rispetto ai 140 dollari perché siamo intorno ai 170 190 dollari quindi un obiettivo finale che è stato anche più generoso dei 140 dollari iniziali tra l'altro trovo questo spread ottimo per iniziare per iniziare un po questa attività perché abbiamo visto che richiede un capitale iniziale piuttosto basso gli spostamenti non sono eccessivamente importanti da un punto di vista economico quindi anche per scaldarsi un po può essere sicuramente una buona strategia di partenza tra l'altro abbiamo tutta la possibilità di guadagnare di più e di arrivare anche ai famosi 1000 euro che sono un po diciamo l'obiettivo così ipotetico anche un po filosofico della sfida perché chiaramente noi abbiamo fatto questa operazione con un solo contratto si aggiungevano più contratti quindi sicuramente il margine il capitale investito saliva ma sarebbe salito anche il profitto quindi a fronte di un investimento di 1000 dollari ne avremmo fatti anche di più di 1000 dollari quindi basta poi calibrarsi in base al proprio capitale in base propria propensione al rischio quindi si ha la possibilità di gestire l'operazione anche in base ai ritorni che più sono in linea con quello che ci possiamo permettere quindi sicuramente una strategia interessante che sta pagando piuttosto bene e che potrebbe continuare a pagare nel corso del tempo tra l'altro nel corso sempre presente sul nostro sito ci sono ulteriori indicazioni anche relative all'analisi tecnica per ottimizzare ingressi uscite infatti noi siamo intervenuti in un punto dove a livello tecnico non eravamo tanto a vantaggio perché c'era un rsi a 50 non appena l'rsi si è spostato sopra i 70 sopra una zona di per venduto lo spread è incominciato a scendere ora che siamo in una zona di per comprato sta tentando un po una risalita quindi in una situazione del genere come facciamo vedere a tutte le settimane nella nostra operatività dal vivo può essere interessante se si hanno più contratti qua alleggerire di una parte ma poi mantenere una buona parte dell'operazione in quanto la stagionalità ribassista è ancora assolutamente prolungata fino alla metà di agosto all'incirca quindi questa è solo un'idea una prima visione dei profitti e dei risultati che possiamo fare ma tutti questi possono essere migliorati massimizzati e non solo massimizzati profitti ma massimizzata anche la vostra relazione con il trading quindi vi aiuteremo anche ad avere l'approccio giusto l'obiettivo giusto rispetto al vostro tempo e al vostro appunto target di rendimento che potete avere dicevo poco fa che già un approfondimento di questa tecnica e di tutte le altre le trovate sul sito di assistenza brokers punto it andando nella sezione corsi di trading troverete tutti i nostri corsi sempre disponibili anche sull'utilizzo della piattaforma così potrete sicuramente approfondire il commodity spread ma volendo come anche nella sfida potete approfondire le altre operatività qui da un punto di vista diciamo più teorico didattico qui già da un punto di vista anche pratico ed operativo oltre a questo scendendo nella pagina troverete anche la possibilità di venirci a conoscere di venirci a trovare presso i nostri uffici perché ci piace molto anche la possibilità di avere una relazione a distanza online è un po' la comodità dei giorni nostri questo sicuramente ma un filo siamo vecchio stampo la stretta di mano potersi guardare negli occhi conoscervi e capire esattamente l'obiettivo che potete avere è assolutamente qualcosa di fondamentale per tutti noi quindi volete approfondire un po' tutte queste tematiche e rendervi effettivamente più indipendenti il nostro suggerimento di partire assolutamente dagli starter pack dove troverete diverse ore di materiale sempre disponibile che potrete consultare tutte le volte che volete che vi andrà a completare il metodo dandovi regole sempre più chiare e ben precise troverete tutte le indicazioni per la piattaforma così anche quella non avrà più segreti e non lasceremo più dubbi inoltre tutte le settimane saremo noi a darvi a diverse strategie tipo quelle della sfida ma chiaramente più dettagliate in questo modo potrete continuare a fare una pratica assolutamente importante potrete farci domande in qualsiasi momento e ogni settimana oltre a darvi delle nuove strategie andremo a rispondere a tutti i vostri dubbi tutte le vostre domande così da non lasciare nulla al caso partire in maniera assolutamente soft e tranquilla e piano piano avanzare sempre di più la vostra capacità la vostra conoscenza quindi ci sarà del materiale che vi rimarrà vita sempre disponibile e del materiale che invece avrà diciamo la scadenza di un mese ovvero in un mese potrete farci tutte le domande che volete appunto vedere ogni settimana delle nuove strategie grazie per essere stati con noi aver partecipato alla sfida anche in questo mese ci rivediamo ai prossimi aggiornamenti ma soprattutto vi aspettiamo all'interno dello starter pack per accelerare e avanzare la vostra conoscenza a 360 gradi a presto